600.000 passeggeri l'anno. Questo il limite per mantenere in vita un aeroporto senza andare in perdita. A riportare tutti con i piedi per terra, il caso di dirlo, è Roberto Vergari, direttore centrale della Vigilanza Tecnica di ENAC, che ieri a Bari ha consegnato il certificato di aeroporto agli scali pugliesi di Bari, Brindisi e Grottaglie. Una certificazione che ha riguardato solo i tre aeroporti pugliesi perché tutti e tre di interesse nazionale spiegano dalla società di gestione rispetto all'aerostazione di Foggia che al momento ha carattere regionale. È l'Europa che lo impone, ha risposto Vergari, a chi chiedeva qual è il traffico necessario alle compagnie di linea per investire in una riapertura a Foggia. I proclami di Emiliano, che nei giorni scorsi ha assicurato l'aeroporto ai foggiani, oggi appaiono ridimensionati. Il realismo ha ripreso il sopravvento. La protezione civile avrà la sua base. Sui voli civili, invece, la questione resta aperta. Anche dopo l'allungamento della pista, infatti, allo Scalo Foggiano potrebbero atterrare aerei di 100 posti per 20 voli giornalieri. Da Bari ne partono 40 per un traffico annuale di quasi 4 milioni e mezzo di passeggeri. Alla cerimonia è intervenuta anche l'assessore regionale ai trasporti, Anna Maria Curcuruto, che ha chiarito sono infrastrutture, hanno delle loro vocazioni territoriali specifiche che saranno assecondate. Se i flussi turistici lo motivano, certamente potranno atterrare anche i voli charter.